Musica Buongiorno a tutti gentili e rispettatori di Toscana TV e Firenze TV, ben trovati a Refresh. Buona giornata ad Andrea Vignolini, è mercoledì 18 ottobre 2023 e siamo pronti in questa prima parte di trasmissione a leggere insieme le prime pagine di oggi con le notizie principali del giorno. In primo piano il conflitto tra Hamas e Israele, quello che è accaduto ieri nella striscia di Gaza, vedete il titolo di apertura del Corriere della Sera, Gaza strage all'ospedale, centinaia di vittime, 500 forse più accuse tra Hamas e Israele. Oggi Biden a Tel Aviv, la Giordania cancella il vertice, morto uno dei tre italiani coinvolti negli attacchi, ucciso il killer di Bruxelles, questo ovviamente sul fronte dell'attentato nella capitale belga. Sbarcò a Lampedusa, così il titolo sul Medio Oriente in fiamme del Corriere della Sera. E poi vedete la foto di quello che è accaduto ieri all'ospedale di Gaza. Sempre sulla prima pagina del Corriere della Sera, in primo piano parla il premio Pulitzer Roger Cohen del New York Times, due stati, ecco l'unica soluzione. E poi l'ex premier Edu Barak che spiega Bibi facendo riferimento a Netanyahu, ha fallito sulla striscia, errore fatale. E poi i raid sui russi con i missili dati dagli americani, questo accade invece nel conflitto russo-ucraino. Andiamo avanti con invece le notizie che riguardano anche la politica e la manovra. Pensioni, natalità, fisco, le novità della manovra. Forza Italia, gli emendamenti ci saranno, spiega ovviamente il partito di maggioranza, rispondendo alla Premier e a Fratelli d'Italia che avevano parlato di nessun emendamento da parte della maggioranza. L'intervista al leader del Movimento 5 Stelle, Conte, paese in retromarcia, a Kiev serve la pace, spiega il leader dei pentastellati. Andiamo sulla prima pagina del quotidiano La Repubblica con le notizie del giorno, mentre sfogliamo ovviamente la rassegna stampa che leggeremo più tardi. La prima pagina della Repubblica ci porta la strage che riaccende l'odio, ovviamente l'ospedale Al-Ali che è stato colpito nella striscia di Gaza ieri. E' questa la strage che riaccende l'odio, perché Hamas accusa che ci sono 500 morti, è un crimine di Israele colpevoli anche agli Stati Uniti, ma l'esercito nega. E' stato un razzo dei terroristi islamici, perché poi bisogna capire ovviamente com'è accaduta questa strage. Se Hamas da un lato parla di un crimine di Israele, dall'altro ovviamente si pensa al fatto che un missile di Hamas in realtà ha completamente sbagliato la mira. Ovviamente c'è stato un errore nel lancio di questo missile, errore che ci sono stati anche in passato, come poi leggeremo sui quotidiani di oggi. Proteste in piazza da Ramallah a Tunisi, Erdogan, barbari e disumane, spiega il presidente turco, Hezbollah proclama un giorno di rabbia senza precedenti. Questo accade invece in Libano, la Russia intervenga l'ONU, Biden vola a Tel Aviv, Mahabu Mazen e la Giordania cancellano il vertice ad Amman. Questo spiega la prima pagina del quotidiano della Repubblica, vedete ovviamente i corpi delle vittime della strage all'ospedale Battista Al-Ali. Poi ne parleremo perché questo è un ospedale in realtà della comunità battista americana. Andiamo sempre sulla prima pagina del quotidiano, la Repubblica con la Giada, la massima allerta in tutta Europa. Bruxelles ucciso l'attentatore, sbarcò in Sicilia a Lampedusa nel 2011, poi vedremo ovviamente tutta la storia. Parla anche l'ex ministro dell'interno Minniti, il conflitto sfida anche noi, spiega Minniti, intervistato oggi dalla Repubblica. Andiamo avanti con il quotidiano La Nazione e le notizie del giorno. L'apertura sulla prima pagina ci porta, vedete nella fotonotizia, alla strage dell'ospedale. Centinaia di vittime per un razzo sull'ospedale di Gaza, a massa accusa Israele che però ribatte. Non siamo stati noi, ma la Giada, trovato morto l'italo-israeliano, disperso, si cerca sua moglie. E per l'altro, l'italo-israeliano, la famiglia sarebbe pronta a pagare il riscatto. Queste poi le notizie che leggeremo più tardi. Dall'Italia al Belgio, i rifugi del terrorista. Tra il titolo di apertura, il killer del Bruxelles era un tunisino approdato a Lampedusa nel 2011. Ha viaggiato in tutta la penisola. La Digos lo segnalò, è pericoloso. Milano, arrestati due estremisti egiziani. Sui social, minacce a Meloni. Il Viminale alza l'allerta, la mappa del radicalismo in Europa. E poi nel taglio alto, il richiamo, la tragedia nella notte a Firenze, ucciso dai ladri in fuga dopo lo schianto contro la moto rubata. È accaduto in via Gioberti a Firenze. Ovviamente la notizia poi la troveremo su tutti i quotidiani locali. Poi il simbolo della Versilia, 10 milioni per comprare la capannina. Sarebbe ovviamente Cipriani dell'Arisbar interessato ad acquistare lo storico locale di Forte dei Marmi. Andiamo avanti sempre con i titoli del giorno. Lo facciamo con la prima pagina del quotidiano Il Tirreno. L'edizione è quella di Firenze, Prato e Empoli. Gaza, la strage dell'ospedale, 500 morti sotto le bombe. La maggior parte delle vittime feriti sono donne e bambini. Poi nel taglio alto a Firenze, ancora spaccate, un'intimidazione, colpite le attività di chi aveva denunciato. Non ci fermiamo, spiega il quotidiano Il Tirreno. Andiamo anche sul quotidiano Il Tirreno con le notizie che arrivano dal Livorno. Vedete una discarica abusiva lunga 40 metri. È il titolo. Alle porte di Nugola appare una distesa di rifiuti ingombranti di ogni tipo, spiega Il Tirreno. Andiamo sulla prima pagina del giornale con l'apertura di oggi. Li abbiamo in casa, è il titolo. L'attentatore di Bruxelles fu liberato da un giudice italiano Isis, due fermi a Milano, il ritorno dei jihadisti, l'esplosione all'ospedale di Gaza. Invece nella striscia, centinaia di morti, scambio di accuse tra Israele e Hamas. Libero il titolo di apertura, il terrorista sul barcone, le conseguenze dei porti aperti. L'attentatore di Bruxelles era sbarcato a Lampedusa e la sinistra diceva che nessun jihadista si affiderebbe agli scafisti. A Milano, scoperta la cellula dell'Isis, cercavano soldi per la guerra. Andiamo sulla prima del fatto quotidiano, l'apertura alla mattanza di Gaza. 500 morti in ospedale, accuse incrociate, arabi contro Israele che nega non siamo stati noi. E poi sempre sulle prime pagine del giorno, la verità, il boia di Bruxelles è arrivato a Lampedusa con un barcone. La storia dell'assassino è un concentrato di errori dell'Occidente. libero grazie alle primavere arabe, il galeotto tunisino non viene espulso per l'intervento di un giudice e vaga per l'Italia e l'Europa, malgrado sia segnalato come radicalizzato fino all'ennesimo fallimento della sicurezza belga e alla strage fatta in nome di Allah. Questo spiega la verità sulla prima di oggi. Il sole 24 ore, l'apertura pubblica amministrazione, ecco tutti gli aumenti nella busta paga di Natale. La manovra 2024 con il decreto anticipi erogati da 2 miliardi per gli stipendi di fine anno agli impiegati 800 euro, 1500 ai medici, 1200 ai prof e 700 agli agenti di polizia. Questo per quanto riguarda la pubblica amministrazione. E poi il missile sull'ospedale a Gaza, 500 morti, già 1000 bambini uccisi dalle bombe. L'escambo di accuse tra Hamas e Israele sulla prima pagina del quotidiano economico. E adesso apriamo anche la rassegna stampa sportiva che oggi ovviamente ha molti approfondimenti. Lo facciamo subito con la prima pagina della Gazzetta dello Sport. L'apertura riguarda intanto il brivido Italia Euro 2024 dopo il K.O. con l'Inghilterra di ieri sera. Hanno vinto ovviamente la formazione inglese per 3 a 1. Non si può più sbagliare. La partenza sprint e Scamacca colpisce, ma c'è Bellingham in gol Keen e Rashford. Decisive per gli azzurri a novembre le sfide contro Macedonia in Italia e Ucraina in trasferta. Eppure la nazionale ha tutto per crescere, scrive Andrea Di Caro nell'articolo di commento. E poi le parole del commissario tecnico Spalletti. Niente ansia e ho visto cose buone, spiega Spalletti sulla prima pagina della Gazzetta. Nel taglio alto invece i calciatori e le scommesse. Tonali ha scommesso sul Milan, spiega la Gazzetta dello Sport. Le puntate non avrebbero inciso sul risultato. Sandro rischia un anno di stop. Fagioli patteggia 7 mesi più 5 di rieducazione. L'ammissione alla procura della FIGC interrogato anche a Torino. E poi io minacciato, se non paghi ti spezziamo le gambe, la confessione dello Juventino Fagioli, facendo riferimento ovviamente alla sua vicenda personale. Andiamo anche sulla prima pagina del quotidiano, il Corriere dello Sport Stadio, con le notizie ovviamente del giorno in prima che riguardano la nazionale e non solo l'apertura. E adesso preghiamo il titolo del quotidiano, il Corriere dello Sport Stadio, che dunque diciamo così si rivolge alla preghiera per la qualificazione dell'Italia agli europei. L'Italia cade, euro a rischio, si gioca tutto con Macedonia e Ucraina. Partenza brillante e gol di Scamacca, Kinn, doppietta e Rashford ci puniscono. Spalletti amaro, abbiamo subito la forza fisica, scrive Alessandro Barbano nell'articolo di commento. Il complesso di inferiorità. E poi ha patteggiato con la FIGC, Fagioli, 7 mesi di squalifica e 5 di riabilitazione. Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport Stadio, si domanda perché lo fanno, riferito ai calciatori che hanno ovviamente scommesso. E poi, sempre sulla prima, Gonzales è il nostro gioiello, commisso, esalta l'argentino. 7 gole, 2 assist. Ieri il Presidente ha parlato a Radio 24. Spero che Nico resti a lungo nella Fiorentina. Buonaventura a costo zero, un grande colpo. Sono felice, mai pensato di cedere il club. Dice, i nostri ricavi sono aumentati in un anno del 48%. Tutto questo grazie soprattutto alle finali di Coppa Italia e di Conference League. La manovra finanziaria, decreto crescita ancora valido per il calcio. Regole inasprite dal governo, ma sono rimaste le agevolazioni per la società. Questo è un tema che si è sviluppato nella giornata di ieri. Si pensava ad un'obolizione del decreto crescita anche per il settore del calcio. Così non è stato il calcio. Può continuare a fruire delle agevolazioni del decreto crescita. Ci fermiamo per dare uno spazio alla regia. Torniamo tra poco con tutto lo spazio dedicato all'approfondimento delle notizie del giorno. Sempre qua a Refresh su Toscana TV e Firenze TV. Restate con noi. Come vorresti che fosse il futuro? Lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno. Noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti. Chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni. E la nostra risposta è... Quello che vorrebbero. Si può fare una poesia che parli di risparmio ed energia. Scopri come sul sito bilancio di sostenibilità.estra.it Porcellotti Moda. Tantissima scelta per vestire come vuoi. Porcellotti Moda. Terra Nuova Bracciolini. Di Biena e Arezzo. Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro. Basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale. C'è l'influenza da principessa. E' il raffreddore Hard Rock. Vivi in C agisce rapidamente contro il raffreddore e i primi sintomi influenzali. Con vitamina C per le difese immunitarie. Per i tuoi E-C puoi provare Vivi in C. Naso chiuso. Trova acqua di sirmione. Scioglie il muco. Libera il naso. Idrata la mucosa. Elimina virus e batteri. Grazie. 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 Buongiorno a tutti i gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV. Di nuovo ben trovati a Refresh. Buona giornata da Andrea Vignolini. È mercoledì 18 ottobre 2023. Abbiamo letto insieme le prime pagine di oggi. Adesso è il momento di sfogliare all'interno dei quotidiani con tutte le notizie del giorno. Partiamo intanto tra il conflitto tra Hamas e Israele e quello che è accaduto ieri nella striscia di Gaza. Siamo a pagina 2 del Corriere della Sera. Un massacro all'ospedale di Gaza. Scambio di accuse Israele-Hamas. Scrive Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera. A questo punto il numero annunciato dei morti è talmente alto che parlare di 500 oppure di 550 o più fa poca differenza. Nelle tragedie collettive la sorte dei singoli fatica ad emergere. E sempre di più la loro sofferenza diventa un'arma nella propaganda di guerra da manipolare contro il nemico. Oltre 500 morti e altre centinaia di feriti tra i civili che erano in cura o si erano rifugiati nei locali dello Ali Arab Hospital di Gaza City. Sostengono i portavoce del Ministero della Sanità di Gaza controllato da Hamas. Le prime immagini rilanciate dai social palestinesi diffuse da Al Jazeera ormai visibili ovunque riprendono gente che disperatamente cerca tra le macerie coperte lenzuola fradice di sangue su barelle di fortuna l'incendio che divampa furioso senza controllo. E poi le invocazioni tra mamme e bambini. La folla che ondeggia, le urla, gli imprechi al cielo. Poi ci sono anche quelli che pensano che Hamas abbia commesso un errore imperdonabile nell'attaccare Israele in quel modo. E adesso ogni razzo sparato verso il nemico causerà tragedie ancora peggiori. Ma non lo dicono ad alta voce. Non possono dire con i militari armati che sorvegliano da vicino. Davvero i morti sono oltre 500? Non lo sappiamo. Forse non lo sapremo mai. Le cifre del dolore sono parte di questa sfida che adesso è diventata all'ultimo sangue. Israele replica sostenendo che deve verificare. Non sappiamo. Potrebbe trattarsi di un razzo di Hamas che ha funzionato male colpendo corto su Gaza. Commentano a caldo i militari. Sui siti dell'esercito gira il filmato di un razzo di Hamas che l'anno scorso cadde tra le catapecchie del campo profughi di Jabalia causando una carneficina. Il fatto poi che lo Alili appartenga ad un'associazione benefica battista americana aumenta i sospetti. Come mai un ospedale americano proprio alla vigilia della visita di Biden in Israele? Chiedono i dubbiosi. Prendono tempo. Quindi verso le 22 pubblicano un comunicato. Un ospedale rappresenta un obiettivo sensibile. Non fa parte degli obiettivi delle forze israeliane. Stiamo investigando la fonte dell'esplosione e come sempre porremo come prioritarie accuratezza e serietà. Questo Israele ha capito ovviamente anche la difficoltà di quello che accade e il racconto anche del bilancio delle vittime difficoltoso nell'articolo di Lorenzo Cremonesi sul Corriere della Sera di oggi. Le testimonianze da Gaza City, bambini uccisi, sangue e fuoco. Chi si assumerà le responsabilità? Parla un medico, il dottor Bashar Murad, in questo articolo di Greta Privitera e spiega perché non è ancora aperto il valico di Rafah. Siamo nel sud della striscia di Gaza al confine con l'Egitto. Manca tutto anche per curare. Chi sta morendo? E poi vedete dove si trovava l'ospedale di Al-Ali Arab Hospital, fondato nel 1882. Era diventato un rifugio nella striscia. Questa è la posizione all'interno della città di Gaza. Restiamo sempre all'interno del Corriere della Sera. La reazione, scontri e assalti alle ambasciate. Si infiammano le piazze arabe. Il re di Giordania accusa Israele del massacro. Hezbollah minaccia. Ora un giorno di rabbia. Anche la situazione nei confini a nord di Israele diventa decisamente complicata. La missione impossibile di Biden per scongiurare la catastrofe. Il presidente atterra verso le 10 a Tel Aviv e parteciperà a un incontro del gabinetto di guerra. Michel, fare di più per i civili. Questo spiega il quotidiano Il Corriere della Sera. E poi invece la giornata di ieri con il vertice numero 41 nella storia dei rapporti tra Vladimir Putin e Jinping. Il presidente russo è a Pechino come ospite d'onore del forum sulla Belt and Road Initiative. Il progetto che tende a riscrivere la cosiddetta via della seta. Poi ancora pagina 12 del Corriere della Sera. Ucciso il killer di Bruxelles. Era sbarcato a Lampedusa. Il terrorista, freddato dalla polizia dopo essere stato segnalato in un bar. Il procuratore e il governo belga parla di un lupo solitario. L'attentatore di Bruxelles è stato ucciso dalla polizia belga. Abdel Hasem, la sued tunisino, 45enne, è arrivato nel 2011 sbarcando a Lampedusa. E poi vedete, nel 2016 l'Italia lo segnalò al Belgio. Le tappe in mezzo a Europa fino all'attentato. 12 anni di spostamenti tra espulsioni e domande di asilo respinte ai passaggi da Bologna, Terni, Torino e in Scandinavia. E sulla sicurezza la Premier Giorgia Meloni parla dei rischi dall'immigrazione. Salvini, terroristi sui barconi, io ho mandato a processo proprio per questo, spiega Salvini, e lancia una manifestazione il 4 novembre a Milano. E poi vedete il dossier, secondo Rinaldo Frignani, ci sono 146 combattenti schedati in Italia, ma ora è caccia agli insospettabili. Verifiche nelle carceri e nei centri di accoglienza. Cordone rafforzato attorno al Vaticano, queste le misure di sicurezza. Intanto ieri a Palazzo Chigi è arrivato il re del Bahrain, Bin Isa al-Khalifa, che ha avuto un confronto ovviamente sul conflitto in Medio Oriente con il Premier Giorgia Meloni. Andiamo avanti sempre con i titoli del giorno e lo facciamo su questo ovviamente, restando sul conflitto tra Hamas e Israele, con le pagine interne del quotidiano La Repubblica. Che ci porta, vedete, intanto alla strage dell'ospedale, come abbiamo letto sul Corriere della Sera, centinaia di morti nell'ospedale di Gaza, Israele e palestinesi si accusano a vicenda. La struttura era rifugio per gli sfollati, Hamas punta il dito sui raid aerei, 500 vittime, ma per l'IDF è stato un missile della Jihad, spiegano ovviamente le forze dell'esercito israeliano. Vedete, intanto la situazione della striscia di Gaza, con le zone riconquestate dall'esercito, l'ospedale Colpito, l'ospedale Al-Ali e poi la recensione fortificata proprio nei territori della striscia. Andiamo avanti sempre con i titoli che riguardano in questo momento la protesta nelle piazze arabe, gli arabi nelle piazze, Esbollah proclama il giorno della rabbia. L'autorità nazionale palestinese è contestata a Ramallah, scontri davanti alla mucata, assalto all'ambasciata israeliana di Hammam, manifestazioni a Beirut. Intanto la situazione nelle piazze del Medio Oriente si scalda e non poco. Intanto il percorso ovviamente del killer di Bruxelles, dalla Sicilia a Bologna, poi l'alert della Digos, quel ragazzo è pericoloso. I brevi soggiorni in Norvegia e Svezia tra arresti ed espulsioni, la segnalazione della polizia italiana del 2016 ignorata dalle autorità belghe. E vedete proprio il percorso del killer tunisino Abdem Salah Lausseid, islamista, radicalizzato, evaso dal carcere, lascia la Tunisia e arriva a Porto Empedocle a gennaio del 2011. A novembre del 2011 vola in Norvegia ma viene rimandato in Italia che lascerà dopo pochi mesi. Nel 2014 parte per la Svezia dove viene espulso, poi va a Torino e a Bologna. In questi due anni resta in Italia, 2014 e 2016, a Bologna viene segnalato come radicalizzato. A ottobre del 2016 viene firmato il suo decreto di espulsione e portato al CIE di Caltanissetta. A novembre del 2016 presenta ricorso contro l'espulsione, poi i giudici ordinano la sua liberazione dal centro di identificazione di espulsione. A dicembre del 2016 fa perdere le sue tracce, probabilmente scappa in Belgio dove ha diversi contatti. Il 16 ottobre del 2023 uccide due svedesi a Bruxelles e ieri viene individuato dalla polizia, muore in un conflitto a fuoco. Questo è stato, diciamo, tutto, tutti i movimenti che ha fatto l'attentatore di Bruxelles dal 2011 ad oggi nella grafica su Repubblica in Edicola. Poi, quello che accade intanto in Italia, dove cresce l'allerta e sono stati presi a Milano due membri dell'ISIS, è caccia a 30 cellule dormienti. L'anno scorso sono state 79 le espulsioni di soggetti radicalizzati seguiti dall'intelligence, questo spiega il quotidiano La Repubblica. Parla anche l'ex ministro dell'interno Marco Minniti, il mondo ora può andare in pezzi, la guerra in Israele è una sfida per l'Europa. Damas, orrore senza precedenti, evoca l'olocausto, vogliono annichilire l'autorità nazionale palestinese e annientare Israele, che ha pagato la fragilità politica. E ancora Minniti spiega, non possiamo più accontentarci di un'Unione Europea minima e poco influente in un sistema apolare, le europee del 2024 saranno decisive. E poi, no alle vendette sui palestinesi, serve ascolto la ripresa di attentati di matrice jihadista, è figlia di una errata integrazione, non delle migrazioni. Così, ovviamente spiega Minniti a proposito di tutto quello che sta accadendo in Medio Oriente e non solo. Intanto c'è anche l'intervista al ministro degli esteri ucraino, Dimitro Kuleba, che spiega che c'è Putin dietro Hamas, merita un'altra a Nuremberg. Ci va giù duro e pesante il ministro degli esteri ucraino, Ucraina e Israele, due teatri della stessa guerra. Biden ci ha assicurato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere Kiev. L'unico che può decidere di congelare il conflitto è il nostro popolo, ma non vedo alcuna intenzione di farlo, spiega il ministro degli esteri ucraino. Oggi, in questa intervista, sicuramente importante al quotidiano della Repubblica. Parla, poi ovviamente, diciamo, parla molto l'incontro tra il presidente cinese Jinping e quello russo Vladimir Putin. Ieri a Pechino, Jinping rilancia la via della seta, progetti più piccoli e sostenibili. Il presidente cinese ha accolto a Pechino Vladimir Putin e i leader di 140 paesi per il decennale di Belt and Road, spiega il quotidiano La Repubblica, nelle pagine di economia. Andiamo avanti ancora con, ovviamente, il conflitto tra Hamas e Israele. All'interno del quotidiano La Nazione, siamo a pagina 7 nella parte nazionale. Gli italo-israeliani è stato ucciso uno dei dispersi. E' mistero sulla moglie, il corpo identificato con il DNA nel kibbutz di Be'eri, le famiglie degli ostaggi pronte a pagare Hamas. Vedete la foto del Vyatar Moshe Kipnis, aveva 65 anni, ancora dispersi la moglie, Lia Clea Avron, e l'altro italo-israeliano, Nir Forti, di 30 anni. Secondo, ovviamente, quello che si apprende, le famiglie degli ostaggi sarebbero pronte a pagare per il rilascio degli stessi da parte di Hamas. Sempre all'interno dei quotidiani, in questo caso locali, anche la Nazione di Arezzo si occupa, vedete, di due aretini e l'inferno di Gaza. Cosci lavora per l'ONU, così i corridoi umanitari, pezzati di Oxfam, fermare subito i bombardamenti. E ci sono queste due storie. La prima riguarda Massimiliano Cosci, che ovviamente lavora per le Nazioni Unite. Sono partito subito, così organizzeremo i corridoi umanitari. Cosci è di Cortona e fa parte del World Food Program dell'ONU. Il mio lavoro è organizzare la base con cibo, acqua, vestiti e medicine. Si naviga a vista, ma immagino che l'uscita sarà con il contagocce. E poi l'appello di Oxfam, palestinesi allo stremo, l'unica soluzione è fermare i missili. Paolo Pezzati, aretino, è il portavoce per l'emergenza umanitaria dell'organizzazione No Profit. Nella striscia ha trovato le persone più accoglienti. Ora vivono in una situazione umanamente inaccettabile. Non servono posizioni a favore o contro. Una delle due parti bisogna evitare un genocidio. Questo spiega Paolo Pezzati, portavoce per l'emergenza umanitaria di Oxfam Italia. Quindi la Nazione di Arezzo racconta queste due storie. Cambiamo argomento e lo facciamo invece con il quotidiano Il Tirreno, che nella parte nazionale ci porta a occuparci dei nostri soldi per quanto riguarda il taglio del cuneo fiscale. In un anno 1.800 euro in più, ai lavoratori sotto i 35.000 euro. Ecco i benefici lordi previsti dalla legge di bilancio per le fasce più deboli. sono dovuti al taglio del cuneo fiscale e alla variazione delle aliquote IRPEF. Vedete il reddito annuo e il guadagno complessivo annuale. Stiamo parlando ovviamente di cifre lordi. È logico, se il reddito è di 35.000 euro, il beneficio è di 1.826,60 euro lordi. Se il reddito è fino a 28.000 euro, 1.553,60 euro lordi. Questi ovviamente sono i numeri che riporta Il Quotidiano Il Tirreno. Terminiamo ovviamente la rassegna stampa con le notizie che riguardano da un lato. Ovviamente anche una valutazione sulla manovra la fa il leader pentastellato Giuseppe Conte. Dal governo soltanto blef e Parlamento brutalizzato. Noi siamo il campo giusto, non largo, dice Conte. E quindi diciamo di fatto sembra anche chiudere un po' la porta al Partito Democratico. Manovra senza visione. Sul salario minimo daremo battaglia. Sulle pensioni sono venute meno tutte le promesse fatte in campagna elettorale. Così Giuseppe Conte oggi al Corriere della Sera. Sempre all'interno del Corriere della Sera, una notizia che riguarda l'economia, si parla dell'ex ILVA. L'allarme stop di Bernabè, Franco Bernabè, presidente dell'ILVA, dice non possiamo più pagare il gas. Per il presidente servono subito 100 milioni. Rimesso il mandato nelle mani del governo. La caparra che l'ex ILVA deve versare per mantenere le forniture di gas ammonta appunto a 100 milioni di euro. Andiamo avanti sempre con i titoli all'interno dei quotidiani nazionali. Lo facciamo con il quotidiano La Nazione. Parla sulla manovra invece Lupi, leader di Noi Moderati, i centristi dell'alleanza del centrodestra. Nidi gratis e meno tasse, una manovra seria per aiutare le famiglie. Il leader centrista, solo aumentando la natalità, l'Italia può avere un futuro. Il taglio del cuneo fiscale per un anno vale metà dell'intera finanziaria. Siamo orgogliosi della conferma degli incentivi sui fringe benefit, spiega Lupi. Il super bonus, dice, è stato un errore. Distribuiva soldi senza generare vera ricchezza, così Maurizio Lupi alla Nazione. Andiamo a occuparci adesso delle notizie che arrivano dalla Toscana. In primo piano la tragedia di Firenze. Ucciso all'incrocio dai ladri in fuga. Muore nell'auto dopo lo scontro, con la moto rubata in controsenso. Lorenzo Brogioni, 43 anni, è rimasto schiacciato dalla sua panda ribaltata dalla violenza dell'impatto. Due dei tre banditi, uno dei quali minorenne, ricoverati in ospedale. Il complice, una ragazza, è scappata. Lo sgomento del sindaco Nardella. Ci costituiremo parte civile in un eventuale processo contro i responsabili. È una ferita enorme per tutta la città. E vedete l'immagine dei soccorritori e i vigili del fuoco attorno all'auto ribaltata di Lorenzo Brogioni. E poi la fidanzata è a corsa sul luogo dell'incidente per abbracciarlo un'ultima volta. È accaduto alle due del mattino in via Gioberti. Gli abitanti sono stati svegliati da un boato. E poi, sempre all'interno del quotidiano della Nazione, il clima pazzo soffroca l'agricoltura. Castagne turche e olio che non c'è. Così cambiano le nostre abitudini. Salgono i timori per le coltivazioni locali in sofferenza. Anche le piante secolari sono intilte per il caldo. Annata condizionata. Primavera eccezionalmente piovosa. Estate umida con 88 eventi estremi. E un autunno torrido, spiega il quotidiano La Nazione. E poi, in un locale simbolo della Versilia, un locale simbolo nel mondo, Sella Capannina diventa Erisbar, offerta da 10 milioni di cipriani per l'icolico locale del Forte dei Marmi. Il patron Gerardo Guidi, in sella dal 1977, aveva ammesso ad agosto di valutare proposte adeguate, ma oggi frena. Sono solo chiacchiere, forse alimentate dal fatto che, grazie a Dio, lavoriamo tanto. Il gruppo interessato possiede ristoranti e club di lusso in tutto il mondo. Un'avventura imprenditoriale nata nel 31 dallo storico locale, che ancora oggi è a Venezia. Quindi vedremo quale sarà il futuro della Capannina. Negli anni, in tanti, hanno cercato di comprare quello che è molto più di un semplice locale. I rumors darebbero per convincente l'accordo con la catena domiciliata in Lussemburgo, secondo il quotidiano La Nazione. Sulla Nazione di Firenze, ex Astor, torna in cella il papà di Cata, scarcerato dopo la scomparsa della figlia il 10 giugno scorso. Miguel Cichiglio ha violato la libertà vigilata. Il giudice ha aggravato la misura. La famiglia trappiste alternative e sensazioni sulla fine della bimba. E poi ancora, vedete, sempre sulla prima pagina del quotidiano La Nazione, l'hanno ucciso così Lorenzo Brogioni, morto a 43 anni in via Gioberti, mentre tornava a casa allo strazio della compagna. La sua panda, travolta a 100 all'ora da un motociclo contromano, appena rubato con tre persone a bordo. Questo spiega il quotidiano La Nazione sulla prima pagina di oggi. Su questa tragica notizia ci vediamo il servizio di Toscana TG, che è il numero 3 regia. Incidente mortale la notte scorsa attorno alle 2 in via Gioberti, all'incrocio con via del Ghirlandaio. Su una moto BMW risultata rubata poco prima a Firenze, hanno percorso ad alta velocità contromano via Gioberti e si sono schiantati con una Fiat Panda in transito. Sulla moto si trovavano tre persone, due risultano stranieri. Sono rimaste ferite in modo serio e sono piantonate all'ospedale di Careggi. Saranno sottoposte anche ai controlli dell'alcol test e del drug test di legge. Si tratta di un 24enne in codice rosso e un 43enne in codice giallo. Una terza persona invece si è allontanata ed è ricercata dalla Polizia Municipale. L'impatto è stato violentissimo, la Fiat Panda si è ribaltata e il conducente Lorenzo, un fiorentino di 44 anni, è morto sul colpo. I vigili del fuoco hanno alzato con i cuscini di sollevamento la vettura per estrarlo essendo rimasto bloccato dentro e il personale medico del 118 purtroppo non ha potuto che constatarne il decesso. Siamo sgomenti per l'accaduto, esprimiamo vicinanza alla famiglia della vittima per questa grave perdita, ha detto il sindaco Dario Nardella annunciando che il comune sta valutando di costituirsi parte civile in un eventuale processo contro i responsabili dell'incidente mortale. Questa è una ferita enorme per tutta la città. E una delle interviste del giorno la troviamo proprio sul quotidiano della Nazione di Firenze, la firma Erika Pontini al prefetto di Firenze Francesca Ferrandino, prefetto da gennaio 2023. Crimine, fronte caldo, spiega la Nazione, cascine spaccate, attenzione massima ma il CPR è necessario, spiega il prefetto di Firenze. Ferrandino, già 12 sgomberi, mappati gli edifici occupati e occupabili in migrazione siamo a 121 casse in 31 comuni, no alle tendopoli e sul rischio terrorismo, obiettivi sotto controllo. Siamo pronti ad alzare l'allerta. La prima domanda, prefetta Ferrandino, i negozianti lamentano spaccate continue i cittadini scippie, aggressioni e spaccio. Che succede a Firenze? Firenze è una città di 300 mila abitanti ma frequentata da milioni di turisti e studenti, anche stranieri sicuramente afflitta da fenomeni di microcriminalità che sono in aumento scippi, rapine e spaccate dal primo gennaio a oggi sono 12 quelle registrate dalle forze di polizia comportamenti deviati dei minori tutto questo incide sulla percezione di sicurezza e su un sentimento umano che è la paura e non va stigmatizzato. Intanto si spiega ovviamente di quello che si sta facendo sul fronte della sicurezza l'Astor mai più, quindi diciamo si fa riferimento all'ex hotel Astor da dove lo scorso 10 giugno è scomparsa la piccola cata eviteremo situazioni che si incancreniscono e mettono a rischio i bambini ce la metteremo tutta, d'intesa con gli altri attori dello Stato e nelle prerogative che l'ordinamento giuridico conferisce a ognuno ci sono ancora edifici occupati? Sì, abbiamo un gruppo di lavoro in questura per la mappatura di tutti gli immobili occupati o occupabili ci sono edifici fatiscenti per cui stiamo valutando la possibilità di intervenire per scongiurare i rischi si fa riferimento poi al problema dell'immigrazione tende, palestre e caserme abbiamo avuto la necessità di allestire due tende una sola volta per sei persone a Pelago e ci sono rimaste per un bravissimo periodo ma non c'è da parte nostra l'aspirazione di creare tendopoli le palestre no, mai aperta una abbiamo sicuramente considerato la possibilità ma non ce n'è stato bisogno caserme mai neppure pensato questo per quanto riguarda l'accoglienza dei migranti ma se un clandestino arriva a Firenze finirà in un CPR dopo ovviamente che spiega che ovviamente servirebbero i CPR la prefetto di Firenze se arriva e chiedono la protezione no, se viene trovato in strada che ha commesso reati del destinatario dei provvedimenti di espulsione sì, quindi questo ovviamente anche sul ruolo dei CPR interessantissima l'intervista di oggi alla prefetto di Firenze Francesca Ferrandino firmata da Erika Pontini sulla Nazione di Firenze Odissea, ride nei negozi sono intimidazioni il sindaco alza la guardia steward anche di notte Nardella incontra Cursano e Mancini vittime di una serie di colpi a raffica l'impegno è scalation che preoccupa necessario potenziare i controlli e poi lo sgombero e viale Gramsci un antagonista sul tetto denunciati dieci militanti dentro l'edificio continua il picchetto della polizia e poi siamo ancora all'interno del quotidiano La Nazione con il pugno duro del tribunale violato l'obbligo di firma il babbo di Cata torna in cella non si è presentato per quattro volte in caserma aggravata la misura cautelare era stato scarcerato all'indomani della scomparsa di sua figlia i dubbi del PM e poi vedete la situazione delle scuole all'emergenza lo leggevamo ieri sul quotidiano La Repubblica di Firenze lo leggiamo anche oggi sulla Nazione professori senza stipendio da due mesi qualcuno addirittura ha chiesto aiuto ai genitori intanto la notizia che riguarda invece Marco Cappato e in particolare la vicenda di Massimiliano malato di sclerosi multipla 44enne di San Vincenzo che fu accompagnato a morire in una clinica svizzera aiutò Massimiliano a morire Cappato non ha compiuto reato la procura chiede l'archivazione il tesoriere dell'associazione Coscioni si autodenunciò dopo aver accompagnato in Svizzera il 44enne Toscano spiega il quotidiano La Nazione una cinquantenne fiorentina ha chiesto all'Asle il farmaco per l'eutanasia deciderà una commissione e poi Firenze è diversa no l'altruismo esiste ancora segnalo l'editoriale del professor Sandro Rogai che fa riferimento diciamo al caso Matteuzzi il nonno ultra novantenne rapinato e percosso in via Orte o Ricellari tutti in cuor nostro ci siamo chiesti io che avrei fatto che avrei fatto se fossi stata la persona colpita e che avrei fatto se testimone dell'aggressione ovviamente dice dando per scontato la reazione emotiva del 91enne c'era un tempo una Firenze migliore più solidale che ora è scomparsa sinceramente non lo credo spiega il professor Rogai credo che l'insicurezza aumenti la paura e renda più guardinghi ma ogni persona fa caso a sé ci sono coloro che curano con cinismo la propria convivenza che sono sempre stati più e quanti sono pronti a esporsi a tutela della vittima e della giustizia anche a rischio della propria incolumità e sono i meno ma ci sono stati e ci sono rassicuro il nostro nonno rapinato a Firenze ci sono ancora persone pronte a esporsi come un tempo quanto alla reazione del singolo aggredito va messo in conto che il fatto stesso di dover cedere con forza un oggetto cui siamo affezionati induce resistenza questo spiega il professor Sandro Rogai e poi ancora all'interno del quotidiano la nazione verso le amministrative 2024 Cecilia del Re chiama il suo popolo a raccolta e al pub va in scena la cena degli ex ma arrivano bordate dal PD a Fratelli d'Italia Stella sono a corto di contenuti non è il momento di organizzare tavolate soprattutto perché mancano programmi e candidati sindaci meglio vedersi per parlare di facezie che di fallimenti indispensabile parlare dei bisogni della città spiega il quotidiano della nazione riportando ovviamente le voci però si spiega anche che alla cena c'erano l'ex vice sindaco Matulli l'ex presidente della provincia di Firenze Andrea Barducci gli assessori gli ex assessori Massimo Fratini Alessandro Martiri l'ex parlamentare Elisa Simoni l'ex segretario cittadino Massimiliano Piccioli l'ex consigliere regionale comunale e di quartiere lei del re forte anche quasi dei 3.000 voti presi nell'ultima tornata elettorale in fondo ci crede ancora e per questo insieme a una squadra che ogni giorno si rimpingua di vecchia e di nuove glorie sta già costruendo il programma per i prossimi 5 anni questa sera tra l'altro Cecilia del Re sarà ospite del programma Telegram condotto da Alessio Poggioni poi sempre all'interno del quotidiano una nazione il valzer delle nomine grande manovre nei musei italiani Giulierini in pol per il dopo Schmidt il direttore del Man di Napoli ha presentato la sua candidatura sia per le gallerie che per Capodimonte la commissione ministeriale dovrà valutare 300 pretendenti su un totale di 800 candidature Paolo Giulierini è uno dei 300 candidati alla guida della Galleria degli Uffizi e poi siamo a San Mignato a Monte l'incontro di pace nella Basilica amata dalla Pira e quindi si potrebbe tenere lì questo incontro ovviamente con padre Bernardo Gianni che poi diciamo che in questo momento rappresenta quella Basilica poi siamo all'iniziativa in piazza per vettori la notte delle edicole luci accese e appelli meritiamo aiuto siamo presidi sul territorio il comune valutiamo di rendere stabile la riduzione del costo del suolo pubblico e questa può essere senz'altro una delle soluzioni intanto per Savino del Bene a Scandicci apriamo la parte di rassegna stampa dedicata alla città metropolitana c'è una nuova casa al Pontignale il patrono Nocentini ha acquisito gli edifici dell'ex hotel l'obiettivo è quello di trasformare il blocco in un centro direzionale era vuoto da anni e nell'area in passato si sono registrate delle occupazioni poi la notizia che riguarda da un lato il cartonificio fiorentino che vede in questo momento i lavoratori scioperare e cassa integrazione e cassa integrazione prorogata il 25 ottobre si riunirà l'unità di crisi della regione toscana ieri il presidio Fabiani consigliere di Gianni per il lavoro manca la risposta dell'azienda ci attendiamo che la proprietà partecipi nel rispetto dell'intesa sottoscritta nel 2022 più di 80 famiglie potrebbero trovarsi all'improvviso senza lavoro non si dice come quando si vuole effettuare il trasferimento e poi ancora pagina 23 la Fiorentini lascia Piancaldoli oltre 80 lavoratori a rischio la decisione è stata durante un incontro con i sindacati oggi sciopero e presidio davanti all'azienda Buti sindaco di Firenzuola rappresenta un vero e proprio dramma per cittadinanza e tessuto sociale dunque problematiche con il tema del lavoro e dell'occupazione nella città metropolitana andiamo sulla prima pagina del quotidiano la Repubblica di Firenze ucciso a 43 anni dai ladri a folle e velocità sulla moto rubata la notizia d'apertura è la stessa del quotidiano La Nazione via Gioberti Lorenzo Brogioni era alla guida di una panda quando è stato centrato dai tre ci sono due pagine dedicate a questa notizia e poi anche le altre due spaccate Confcommercio parla di un atto intimidatorio o meglio lo teme poi a Santo Spirito se fate qui la RSA noi agostiniani ce ne andiamo questo diciamo l'appello degli agostiniani poi due notizie medici di famiglia pando flop 51 domande per 203 posti e poi la notte delle edicole illuminate basta chiusure vogliamo lavorare questo spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze perché ovviamente si parla della cosiddetta notte delle edicole l'assessore al commercio del Comune di Firenze Giovanni Bettarini ha detto stiamo mettendo mano al piano chioschi ed edicole puntiamo a stabilizzare definitivamente lo sconto dell'80% per il suolo pubblico agli edicolanti e poi l'intervento sgombero in via le Gramsci gli occupanti salgono sul tetto ma restiamo ovviamente all'interno del quotidiano la Repubblica di Firenze in tre contromano con la moto rubata siamo in via Gioberti c'entra un'auto muore il guidatore Lorenzo Brogioni 44 anni da compiere era la guida della sua panda in via Gioberti due ladri portati in ospedale un terzo scappa nel taglio basso la filosofia e i vecchi libri le sue grandi passioni era un bravo ragazzo era stato anche dipendente di Alin poi altri lavori aveva partecipato a tante manifestazioni stava andando a casa della fidanzata questo spiega Lorenzo Brogioni questo spiega il quotidiano della Repubblica ripercorrendo ovviamente anche la vita di Lorenzo Brogioni allarme sicurezza altre due spaccate atto intimidatorio i titolari dei locali avevano protestato insieme al Confcommercio Nardella parla di una strana coincidenza e poi vedete anche qua la politica verso l'elezione amministrativa del 2024 Del Re fa i conti al pub ma sulle primarie nel PD si frena l'ex assessore insiste solo ambizioni personali la attacca il segretario del Partito Democratico Ceccarelli e poi le scritte contro Tel Aviv a Novoli timore degli studenti israeliani spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze e poi ci si occupa anche della sanità i medici di famiglia un altro flop bando per 203 posti solo 51 domande chi usa la procedura SISAC potrebbero mancare 150-160 dottori ma qualcun altro potrebbe ritirarsi una volta assegnate le zone più appetibili in arrivo una delibera con i benefit per chi accetta le aree più disagiate spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze tra poco dopo lo spazio per diciamo dei messaggi importanti riprendiamo ripartendo da qua con tutte le notizie di oggi da Firenze e dalla Toscana restate con noi su Toscana TV e Firenze TV con Refresh una buona giornata da Agnese Fedeli di Firenze Smart vediamo le prime notizie su traffico e mobilità in Toscana in questo mercoledì 18 ottobre cominciamo dall'autostrada in a 1-2 km di coda per lavori in direzione nord tra Calenzano e Aglio se gliene avviene oltre incidente sempre in carreggiata nord tra Firenze Sud e Firenze Scandici ulteriori dettagli nelle prossime edizioni in a 1-11 possibili disagi per rispostamenti mattutini tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Prato Ovest e il Bivio Corla 1 e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici ancora una volta verso il capoluogo voltiamo pagina per il traffico ferroviario Tranitalia informa che per un inconveniente a un treno di altra impresa ferroviaria il treno 19339 Spezia Livorno sta viaggiando con 24 minuti di ritardo siamo al traffico urbano di Firenze da domani 19 ottobre al via lavori fognari su piazza San Felice possibili disagi ed effetti sul traffico e la viabilità locale può avversi in Toscana Info servizio in collaborazione con la regione Toscana città metropolitana di Firenze e comune di Firenze per ora è tutto buon viaggio come vorresti che fosse il futuro lo abbiamo chiesto a chi dovrà viverlo e costruirlo giorno per giorno noi di Estra ascoltiamo questi desideri e li trasformiamo in progetti chiedendoci quale pianeta vogliamo lasciare alle nuove generazioni e la nostra risposta è quello che vorrebbero si può fare una poesia che parli di risparmio ed energia scopri come sul sito bilancio di sostenibilità punto estra punto it sono iscritto in FIOM per essere consapevole dei miei diritti e farli valere perché la condivisione e l'unione di coscienze hanno un valore immenso perché il senso civico è al centro della nostra battaglia sono iscritto alla FIOM perché mi piace stare dalla parte giusta perché insieme possiamo fare di più ho scelto la FIOM per difendere i miei diritti e dare voce alle mie paure perché lotta resistenza è ostinatamente antifascista campagna di tesseramento FIOM CGL unisciti a noi carta e cartone vetro organico plastica lattine tetrapack fai la raccolta differenziata falla bene per te per l'ambiente sei toscana.it il bar è tutto pranzo la tabaccheria e la recepitoria uova colombe e panettoni e il pane fresco pure l'enoteca se ha proprio tutto allora è il bar Valentina bar Valentina un solo bar per mille servizi eccoci qua gentili telespettatori di Toscana TV e Firenze TV di nuovo ben trovati a Refresh buona giornata da Andrea Vignolini è mercoledì 18 ottobre 2023 proseguiamo la rassegna stampa con i titoli di oggi lo facciamo con il quotidiano Repubblica di Firenze siamo all'interno e questa notizia sicuramente scalda il cuore per ovviamente il messaggio mio marito è vivo grazie agli organi donati da Leonardo un post su Facebook per ringraziare la mamma del giovane morto nell'incidente Leonardo Brown e Emma Genovali nella foto i due ragazzi sono morti in seguito a un incidente stradale avvenuto a luglio a Via Reggio e appunto la moglie dell'uomo che ha tenuto i polmoni di Leonardo ci ha tenuto a ringraziare la madre Manuela Guidi Pardini via messaggio volevo solo ringraziarla per il bellissimo gesto che ha fatto in un momento di grande tristezza esordisce il suo pensiero parole a cui segue una ricostruzione della dura vicenda del marito tutto partito da una telefonata attesa da molto tempo era la sera dell'11 luglio scrive quando mio marito ha ricevuto la chiamata dall'ospedale di Siena stanno arrivando due polmoni per te vieni il prima possibile in ospedale che ti prepariamo per il trapianto una notte intera sotto i ferri per un'operazione lunga 12 ore fino al giorno dopo racconta la donna un'infinità trapela dal messaggio carico di emozione della donna la quale ha poi rivisto il marito soltanto dopo 24 ore di terapia intensiva spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze e poi sempre all'interno della Repubblica di Firenze lo sgombero in Viale Gramsci un occupante resta sul tetto per tutto il giorno la zona è stata sorvolata da elicotteri dentro al palazzo i ragazzi del collettivo antagonista usciti da Via Sighele spiega il quotidiano la Repubblica di Firenze due cell due delle occupanti affacciate a una finestra un uomo sul tetto lo sgombero è andato avanti per ore ieri lungo tra l'altro i viali di circonvallazione a Firenze e su questa notizia ci vediamo il servizio di Toscana Tg che è il numero 1 lo sgombero è scattato alle prime ore di questa mattina ancora non era giorno 10 persone sono state denunciate per l'occupazione abusiva di uno stabile di proprietà privata in Viale Gramsci a Firenze per 3 dei 10 denunciati è stato emesso il foglio di via nell'immobile le forze dell'ordine hanno trovato militanti del collettivo ex Corsica 81 già sgomberato in una precedente operazione da un edificio occupato abusivamente a Ponte di Mezzo per lo sgombero di Viale Gramsci la Questura di Firenze ha coordinato le forze di polizia anche avvalendosi delle competenze tecniche dei vigili del fuoco e dei manovratori di corda del secondo reparto mobile della Polizia di Stato di Padova puntando a raggiungere il tetto dell'edificio dove si era ritirato un attivista sono state adottate tutte le misure per la messa in sicurezza della persona che si trovava sul tetto mediante un'apposita corda di sicurezza e un materasso gonfiabile è il dodicesimo sgombero di edifici occupati abusivamente a Firenze in meno di dieci mesi noi abbiamo deciso di lanciare questa campagna in città sugli spazi di aggregazione sociali perché la situazione a Firenze ci sembra molto grave non ci sono spazi di aggregazione per i giovani c'è una questione abitativa veramente delicata i costi dell'affitto della vita sono ormai alle stelle e queste cose ci sembrano collegate con i processi speculativi che hanno investito la città negli ultimi dieci quindici venti anni che ormai però sono arrivati a dei livelli fuori controllo in centro non ci sono più spazi di aggregazione ma nemmeno nei quartieri per mettersi in affitto è diventato veramente impossibile anche per chi lavora e adesso è il momento di sfogliare insieme il Corriere Fiorentino con le notizie locali dell'edizione del Corriere della Sera ucciso da tre in fuga sulla moto rubata e il titolo di apertura a folle velocità a contromano in via Gioberti travolta una panda ferma muore l'automobilista abbiamo ovviamente già letto sugli altri quotidiani la storia di questo incidente tragico che registra il decesso di questo 44enne a folle velocità in contromano in via Gioberti dei ladri ricoverati adesso a Careggi padre Pagano picchiato l'ho visto nel video è l'aggressore del 91enne il racconto del priore di Santo Spirito e poi l'allarme di Confcommercio e Nardella altre spaccate nella notte un avvertimento non hanno rubato niente a centropagina il Corriere Fiorentino si occupa del viaggio dei progetti non realizzati dei grandi architetti dopo lo stop a Isozaki i mai visti di Firenze che non ha saputo sognare in grande andiamo avanti sempre con i titoli del quotidiano il Corriere Fiorentino all'interno vedete ancora spaccate stavolta senza furti temiamo che sia un avvertimento spiega Aldo Cursano presidente di Confcommercio Firenze un po' tutti ci sentiamo abbandonati ci sentiamo vulnerabili e abbiamo bisogno di un segnale forte delle istituzioni poi nel taglio basso il padre agostiniano Giuseppe Pagano della Basilica di Santo Spirito Priore di Santo Spirito picchiato in strada dallo stesso uomo che ha derubato il 91enne Giampaolo Matteuzzi padre Pagano l'ho riconosciuto dal video mi ha aggredito alle 5.40 del 7 ottobre e ho deciso di fare denuncia perché ho capito che è pericoloso questo il racconto di padre Pagano poi siamo ovviamente anche alle notizie che riguardano Firenze troppi tavolini noi no noi siamo in regola via Palmieri botte a risposta tra lo residente e i ristoratori il comune che dice i controlli ci sono ancora tavoli e tavolini e noi impossibilitati a entrare con l'auto pur avendo il permesso per il carico e lo scarico questo accade in via Palmieri nel tratto pedonale tra piazza San Pierino e via Pandolfini appena 60 metri ma con una densità di locali proprio all'incrocio con la piazza la concentrazione è maggiore quindi da qui ovviamente ci sono le problematiche dei residenti che chiedono ovviamente di rimuovere quei tavolini e invece i ristoratori che dicono noi siamo assolutamente in regola racconta il Corriere Fiorentino di oggi così come il Corriere Fiorentino di oggi racconta il post del sindaco Nardella che ha fatto scaturire una pioggia di critiche Nardella post sul Caraffitti pioggia di critiche il sindaco pubblica la lettera di una professoressa disperata i commenti ma dov'eri finora gli scrivono ovviamente i Fiorentini questa stessa notizia poi la ritroviamo anche sugli altri quotidiani di oggi lo vediamo velocemente con il tema dell'abitare che si conferma un tema centrale all'interno ovviamente della diciamo così delle questioni che riguardano le città per esempio siamo anche all'interno vedete il quotidiano del terreno scrive la prof del sud scrive al sindaco neppure le suore mi danno casa l'appello perfino loro preferiscono affittare ai turisti rischio la cattedra Nardella le conseguenze delle locazioni breve sono enormi ora serve l'intervento di tutte le istituzioni e poi sempre all'interno dei quotidiani andiamo a Prato dove gli sfratti sono aumentati del 205% e a Prato mancano le case popolari l'allarme del Sunia centinaia di famiglie rischiano di restare per strada in provincia ci sono soltanto 1828 alloggi di rilizia residenziale pubblica e 172 risultano sfitti a Empoli guardate la notizia niente affitti in città e i prezzi aumentano ad avere difficoltà sono anche insegnanti e professionisti Donato del Sunia si tende sempre più a cercare una stanza questo è il racconto ovviamente sul quotidiano il Tirreno di Empoli nell'edizione di Empoli di oggi andiamo avanti con il Corriere Fiorentino e ovviamente le notizie che leggiamo all'interno perché ci sono anche da un lato c'è l'intervento dell'ex sindaco di Firenze Mario Primicerio che spiega Firenze Mobility le città europee in una grande rete per la pace l'ex sindaco Primicerio i ragazzi di Londena in piazza un'iniziativa lodevole due popoli e due stati condannano Hamas ma anche la distruzione di Gaza e quindi spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino facendo riferimento al diciamo alla vicenda del conflitto tra Israele e Hamas secondo l'ex sindaco Mario Primicerio Firenze dovrebbe involitare le città europee per organizzare una manifestazione di pace e poi siamo invece sul tema della regione Lippi non lascia nuova giunta ora il partito democratico pensa all'autosfiducia Cecina il partito voleva le dimissioni ma il sindaco sospeso per la cocaina rilancia e vedete ovviamente la notizia sul Corriere Fiorentino grande diciamo indecisione sul da farsi a Cecina e poi addio i dati che riguardano ovviamente diciamo quello che sta accadendo a Firenzeola l'abbiamo letto anche sulla Nazione lo ritroviamo sul Corriere Fiorentino addio Firenzeola la Fiorentini sposta la produzione in Emilia 82 dipendenti a rischio spiega il quotidiano il Corriere Fiorentino e poi gli stati generali la pelletteria rallenta calano i volumi sul lavoro rischio tensioni qual è la situazione di un settore molto importante soprattutto nell'area tra Pontassieve Scandici e il Valdarno per quanto riguarda la pelletteria ce lo racconta il servizio di Toscana Tg che è il numero 5 regia il settore della pelletteria subirà un rallentamento nella seconda metà dell'anno nonostante i primi 6 mesi del 2023 avessero registrato un aumento del fatturato del 9,5% rispetto al 2022 è quanto emerso nel corso della quarta edizione degli stati generali della pelletteria che si sono tenuti nel Salone dei 500 del resto Firenze non è solo la casa dell'artigianato ma anche il luogo in cui i grandi marchi hanno insediato le proprie manifatture Yves Saint Laurent Belenziaga Tots Louis Vuitton gravitano tutti nell'area metropolitana ed è qui che si concentrano i terzisti che producono per loro Fiorentina è anche la nuova presidente di Asso Pellettieri la prima donna a guidare l'associazione oltre alle cause dovute al mercato spiega Claudia Sequi nel motivare il rallentamento la situazione macroeconomica al momento è terribile perché ci sono fenomeni inflattivi che non si erano mai verificati prima negli ultimi anni nei prossimi 5 anni ha poi sottolineato il settore prevede dalle 15 alle 20.000 assunzioni il che apre però l'altro grande problema della pelletteria formare personale qualificato che non si trova dubbiamente questa è una delle difficoltà che abbiamo a orientare i giovani verso il nostro mondo verso il nostro lavoro e quindi a riuscire a formarli per poi entrare nelle aziende abbiamo un problema anche di adeguamento a quelle che sono le nuove richieste circa sostenibilità tracciabilità sulla sostenibilità però aggiunge la pelle è per sua natura parte di una economia circolare è sostenibile è probabilmente uno degli esempi più antichi di circolarità noi non utilizziamo materiali solo per la pelle noi utilizziamo la pelle che è uno scarto dell'industria alimentare che quindi trova una seconda vita al momento che viene conciata una terza vita al momento che noi facciamo le borse oppure facciamo le scarpe o altri prodotti e poi trova un'ulteriore vita nel momento in cui viene riciclata perché chiaramente tutti sono per legge obbligati a conferire quelli che sono i resti della pelle separatamente andiamo avanti sempre con i titoli di oggi lo facciamo tornando all'edizione di Repubblica di Firenze con l'iniziativa che riguarda la notte bianca dell'edicole contro la crisi la notte bianca dell'edicole chiosche illuminati ora basta chiusure l'assessore Bettarini pronto a rendere stabile lo sconto dell'80% sul suolo pubblico ci sono poi interviste a due edicolanti Emanuele Andreini vivendo tra i libri ho preso la laurea racconta lavorando mi sono appassionato alla storia ho imparato a parlare con gli altri delle mie letture e poi invece in Via Elefanti Giacomo Fusi dall'alba al tramonto qui il dibattito è aperto mi confronto con tanti punti di vista diversi e questo riempie le ore e mi fa superare la fatica dunque come abbiamo detto ovviamente il dato la storia dell'edicole è questo ricordiamo che per quanto riguarda il dato principale a Firenze le edicole vere proprie che sono 91 da quando i supermercati vendono i giornali due e due quelle su dieci nelle loro prossimità chiudono nell'arco di un anno ecco perché col tempo sono emerse varie idee per salvare gli ultimi valoardi dell'informazione per strada e a proposito di informazione e del consumo anche dei quotidiani segnalo oggi all'interno del Corriere della Sera un'intervista al responsabile del Dipartimento dell'editoria di Palazzo Chigi che spiega in modo molto chiaro qual è uno dei rischi principali per i cittadini parla Alberto Barachini nato a Pisa 51 anni fa è un giornalista e politico la pirateria alimenta la criminalità le scuole utilizzino i fondi per l'editoria il sottosegretario Barachini è necessario sensibilizzare i cittadini e poi vedete le luci accese nella notte dell'edicola viene ricordato anche sul Corriere della Sera di oggi l'iniziativa di ieri sera il punto principale è che scrive Barachini dice Barachini in questa intervista Andrea Ducci sul Corriere della Sera ancora oggi molti cittadini non hanno consapevolezza dei danni generati da queste attività illegali che alimentano la criminalità organizzata e non i singoli hacker si aggiunga che oltre a essere un reato grave mette a rischio migliaia di posti di lavoro le campagne mirano a sensibilizzare i cittadini nel 2022 l'accesso illegale a rete archivi digitali si è tradotto per il settore media in mancati ricavi per 1,7 miliardi e in un mancato gettito fiscale di 319 milioni oltre che in circa 10.000 posti di lavoro in meno nell'editoria dei libri genera danni per quasi 800 milioni mentre per i giornali la violazione del diritto d'autore legata alle rassegne stampa illegali rappresenta 250 milioni di mancati ricavi questo spiega il Corriere della Sera con l'intervista ad Alberto Barachini che potete leggere oggi torniamo invece sul Corriere Fiorentino con le notizie del giorno perché tra le notizie del giorno c'è anche vedete Chiara Dino che a pagina 10 racconta la Firenze che non sa usare qual è la Firenze che non sa usare cioè tutti quei progetti che non si sono mai visti l'uscita degli uffizi di Sozaki bocciata è solo uno dei tanti progetti rimasti su la carta in una città che ha provato a sognare con i grandi architetti ma alla fine ha perso tutte le occasioni e vediamo anche alcuni aspetti il parco sull'Arno di Rogers questa era una delle idee ovviamente che riguardava la città il progetto di Calatrava per il museo dell'opera del Duomo e poi ancora vedete ancora il diciamo quello che è stato l'area la riqualificazione dell'ex Fiat per l'area ex Fiat di Novoli questi sono diciamo dei rendering che non si sono diciamo di progetti che non si sono realizzati a Firenze peccato che sia andata così scrive dice l'architetto Elio De Franco si poteva attirare un turismo di qualità interessato ai nuovi linguaggi ma c'è stata paura e dunque un tema molto interessante è quello di Firenze che non sa usare che non sa parlare diciamo al contemporaneo andiamo sulla prima pagina del terreno con l'edizione di Livorno il mastio chiuso i palazzi imbrattati le nostre grandi bellezze sprecate lo sfogo della presidenza delle guide storiche neanche un parcheggio per i bus sotto i portici solo catene e un'infinità di cartelli vendisi in Venezia la gincana tra gli escrementi e quindi questo è il racconto dello sfogo della presidenza delle guide storiche e poi parla il presidente il sindaco Luca Salvetti che dice sono stupito spiega il sindaco Livorno adesso piace questo per quanto riguarda ovviamente la questione diciamo di Livorno e del suo gradimento saluto in collegamento con noi Raniero Casini coordinatore provinciale di Firenze del Sinagi Toscana buongiorno e ben trovato Casini grazie per essere con noi buongiorno buongiorno a tutti allora torniamo ovviamente sulla giornata di ieri in particolare la serata di ieri lo leggiamo su Repubblica ma insomma ne ha parlato anche il Corriere della Sera contro la crisi notte bianche delle edicole chioschi illuminati ora basta chiusure l'assessore Bettarini intanto spiega che punta a rendere stabile lo sconto dell'80% sul suolo pubblico è una misura che incoraggia sicuramente ma basterà le domande Casini ma noi abbiamo organizzato questa notte delle edicole in tutta Italia perché sono diverse le misure che stiamo chiedendo per andare avanti dal punto di vista del Consiglio Comunale di Firenze in cui ieri c'erano anche molti assessori c'era l'assessore dal commercio Bettarini c'era appunto la vice sindaca Bettini c'era l'ex assessore Cecilia Del Re e c'erano altri consiglieri comunali anche dell'opposizione ma il punto dell'edicole per quello che riguarda diciamo la parte comunale è uno il rinnovo della concessione della concessione delle licenze perché noi sappiamo che per esempio per altre categorie ambulanti in questo caso a Firenze sono state rinnovate per altri 12 anni e noi pensiamo che questo intanto abbiamo bisogno di una situazione stabile stabile perché altrimenti non riusciamo neanche a dire facciamo qualche investimento in più per vedere di migliorare o di in qualche modo anche diversificare le nostre attività l'altro punto è dal punto di vista sempre comunale è la riduzione della cosa per la cosa per i chioschi è la tassa sul suolo pubblico noi vediamo da vent'anni fa in cui eravamo molto molto attenti alla vendita e avevamo delle vendite elevate ed eravamo una categoria fra le più ricche del territorio comunale oggi invece sta succedendo che certo quelle rimangono ancora vendono ancora vendono ancora vanno avanti con la propria attività ma molte per quelle che stavano le politiche di liberalizzazione degli ultimi anni e di fatto sta parendo fuori che quasi tutti possono vendere giornali e non è che diventano edicole diventano semplicemente negozi in cui poter comprare qualche giornale a un bar o qualche cosa sono stati dati giornali alla grande distribuzione e anche lì statisticamente in questi anni abbiamo visto che dove c'è un S lunga dove c'è una LIL dove c'è una coppa che tengono i giornali facendo un raggio di qualche centinaia di metri tutte le edicole su dieci edicole che erano e nei dintorni il raggio d'azione della grande distribuzione un supermercato e due sono chiuse ora è un caso il problema è che noi abbiamo bisogno di un ruolo centrale sappiamo che altre attività giustamente intendono prendere i giornali ma devono essere attività che tengono i giornali davvero nel senso che noi abbiamo degli obblighi di legge abbiamo degli obblighi per rispettare il pluralismo dell'informazione cioè noi vendiamo libero il giornale la stampa il fatto quotidiano manifesto eccetera eccetera per legge allora se invece troviamo delle attività ripeto per esempio a un bar perché l'esempio più classico in cui uno va lì a Firenze trova sei nazioni due repubbliche due stadio e poco di più si sente dopo? si va bene saluti familiari della mattina è evidente che questo ci può diminuire questo non può essere è stata una politica sbagliata ai danni passati e noi vogliamo che questo cambi Senta Casini siccome sono in chiusura devo salutare però mi dice questo vent'anni fa quante edicole c'erano nel comune di Firenze e quante ce ne sono oggi? per capire per farlo capire nel comune di Firenze c'erano oltre 200 edicole oggi ce ne sono un'ottantina 80? e sono in diminuzione e sono in diminuzione però ripeto il problema della differenza tra edicole e punto vendita sono due cose queste quindi evidentemente il mondo cambia siamo avanti però non può essere non può essere che questa situazione vada avanti quindi noi cerchiamo una serie di situazioni e di cose e di richieste per cui ce ne devono dare la notte di E' stata una grande notte abbiamo avuto in tutta la Toscana e in tutta Italia il resto è tutta la Toscana grande grande affluenza le amministrazioni comunali gli enti sono venuti la sera è stata una cosa anche molto carina insomma ci sono state il brindisi le cose un po' di eventi ma insomma io ringrazio tutti quelli che sono partecipati i colleghi che sono venuti e niente andiamo avanti andiamo avanti alla manifestazione nazionale del 21 novembre che terremo a Roma davanti al Parlamento per portare anche lì le nostre problematiche le nostre rivendicazioni perché sappiamo che dove ci serve e intentiamo lavorare perché queste ci vengano date grazie a Raniero Casini per essere intervenuto a Refresh buona giornata e buon lavoro in bocca al lupo Casini grazie a voi grazie allora chiudiamo qua questa puntata di Refresh di oggi noi torniamo domani mattina puntuali come sempre alle 6.50 ad Andrea Vignolini a tutti voi l'agurio di una felice giornata a lei